Sciacca, tre chilometri al centro abitato, ovviamente provincia dell'Agrigento, questa località, questa proprietà che vedete alle mie spalle può essere facilmente raggiunta dalla Palermo Sciacca, quella che i siciliani chiamano Fondo Valle. Si tratta di 220 metri quadri divisi su due elevazioni, più una depandanza, questo che significa che in realtà possono anche essere vissuti separatamente attraverso una scala esterna che è proprio nella proprietà. Ma guardiamo anche questo giardino che vedete in questo momento, un giardino molto bello che ovviamente ha bisogno di essere un po' curato e anche per questo possiamo pensarci noi, possiamo anche fornirvi tutto quello che significa anche ricovero, guarigione del vostro giardino, oppure ci penserete anche voi da soli. Un giardino particolare, un giardino molto bello con alberi d'olivo, tra l'altro questi sono alberi d'olivo secolari e si tratta di Nocellana del Belice che è un marchio DOP, un'eccellenza per quanto riguarda l'olio d'oliva e poi ancora tanti alberi da frutto. Un giardino che quindi non si ferma soltanto qui ma che si estende anche da quell'altra parte. Vi ripeto che siamo a 5 km dal mare con una strada che è la Palermo Sciacca che è facilmente guidabile, che collega quindi da Palermo a Sciacca, le due grandi città, passando dalla Valla del Belice. L'acqua non manca, c'è il sistema di irrigazione, c'è quest'altra parte del giardino e sicuramente un'oasi di pace e di tranquillità.